Sono 23.699 i nuovi casi di covid registrati in tutta Italia in base all'ultimo bollettino del Ministero della Salute, dei quali 3.219 sono stati accertati in Sicilia. Nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta si è avuto un riscontro di 98 nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 32 sono di Gela, 26 di Caltanissetta, 12 di Niscemi, 5 di Butera, 4 di Mazzarino, 4 di Milena, 4 di San Cataldo, 4 di Riesi, 3 di Mussomeli, 3 di Sommatino e 1 di Serra di Falco. Ricoverati in degenza ordinaria 4 pazienti di Gela, 2 di Caltanissetta e 1 di Sommatino. Dalla degenza ordinaria sono stati dimessi 2 pazienti di Gela, 1 di Niscemi e 1 proveniente da fuori provincia. Un paziente di Caltanissetta è stato trasferito dal reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Sant'Elia a un altro ospedale. Sono deceduti 2 pazienti positivi al SARS-CoV-2, 1 di Resuttano e 1 di Niscemi. Sono invece 134 i guariti, 41 di Gela, 40 di Caltanissetta, 16 di San Cataldo, 13 di Niscemi, 10 di Mazzarino, 7 di Mussomeli, 1 di Acquaviva, 1 di Butera, 1 di Montedoro, 1 di Resuttano, 1 di Serra di Falco, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga.